L'Illuminismo, un'epoca di ragione e progresso. L'Illuminismo è un movimento filosofico, culturale e sociale che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo, con epicentri in Francia, Inghilterra e Italia. Il suo fulcro era la fiducia nella ragione umana come strumento per comprendere il mondo e migliorare la società. Il motto illuminista era sapere aude, osa sapere, un invito a liberarsi dalle superstizioni e dai dogmi religiosi per abbracciare il pensiero critico e l'indagine scientifica. Le radici dell'Illuminismo, le radici dell'Illuminismo possono essere rintracciate nel Rinascimento, con la riscoperta della cultura classica e l'enfasi sull'uomo come individuo. La rivoluzione scientifica del XVII secolo, inoltre, aveva aperto la strada a una nuova visione del mondo basata sull'osservazione empirica e sul metodo scientifico. I principi chiave dell'Illuminismo, razionalismo, la ragione è la chiave per comprendere il mondo e migliorare la società. Empirismo, la conoscenza deriva dall'esperienza e dall'osservazione del mondo naturale. Progresso, la società può progredire attraverso la conoscenza e la riforma. Tolleranza, le persone dovrebbero essere tolleranti verso le diverse opinioni e religioni. Uguaglianza, tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge e hanno diritto alla felicità. I principali esponenti dell'Illuminismo, Francia, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Inghilterra, John Locke, David Hume, Adam Smith Italia, Cesare Beccaria, Pietro Verri, Alessandro Manzoni. L'influenza dell'Illuminismo, l'Illuminismo ha avuto un'influenza enorme sulla storia occidentale. Ha contribuito a ispirare la rivoluzione francese e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e ha posto le basi per la democrazia moderna, la libertà di pensiero e di espressione e i diritti umani. L'eredità dell'Illuminismo, l'Illuminismo è stato un periodo di grande fermento intellettuale ed importanti cambiamenti sociali e politici. I suoi principi di ragione, progresso e tolleranza continuano a ispirare le società moderne e a guidare la nostra ricerca di un mondo migliore, l'Illuminismo, un'epoca di ragione e progresso. Il ruolo dell'Illuminismo nella nascita della scienza moderna. L'Illuminismo ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita della scienza moderna. Il metodo scientifico, basato sull'osservazione empirica e sulla sperimentazione, si è affermato come il modo migliore per comprendere il mondo naturale. Il rifiuto dell'autorità religiosa e l'enfasi sulla ragione hanno portato a una serie di scoperte scientifiche, rivoluzionari e in campi come l'astronomia, la fisica, la chimica e la medicina. L'influenza dell'Illuminismo nella letteratura e nell'arte. L'Illuminismo ha influenzato profondamente anche la letteratura e l'arte. Gli scrittori e gli artisti illuministi si sono impegnati a diffondere i principi della ragione, del progresso e della tolleranza. Le loro opere spesso criticavano le superstizioni, i dogmi religiosi e l'oppressione politica. Il movimento illuminista ha dato vita a nuovi generi letterari, come il romanzo filosofico e il saggio, e ha favorito lo sviluppo di nuove forme d'arte, come il neoclassicismo. Il dibattito sull'Illuminismo e la religione, l'Illuminismo ha avuto un rapporto complesso con la religione. Da un lato, molti illuministi erano critici verso la Chiesa Cattolica e il suo potere politico. Essi sostenevano la libertà di pensiero e di espressione e criticavano l'intolleranza religiosa. Dall'altro lato, alcuni illuministi erano deisti, cioè credevano in un Dio creatore, ma non in una religione rivelata. Altri ancora erano atei e rifiutavano completamente l'idea di Dio. L'importanza dell'Illuminismo nella storia contemporanea. L'Illuminismo è stato un periodo di grande importanza nella storia occidentale. Le sue idee hanno contribuito a plasmare il mondo in cui viviamo e continuano a influenzarci ancora oggi. I principi di ragione, progresso, tolleranza e uguaglianza sono alla base della democrazia moderna, dei diritti umani e della libertà di pensiero. L'Illuminismo è stato un periodo di grande fermento intellettuale e di importanti cambiamenti sociali e politici. Le sue idee hanno contribuito a costruire un mondo più moderno, libero e democratico. L'eredità dell'Illuminismo è ancora viva e continua a ispirare le nostre speranze per un futuro migliore.